A me sembra tutta una mistificazione perché il patteggiamento tecnicamente è la richiesta dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e conviene a tutti, conviene sia all'imputato che ai pubblici ministeri perché da una parte si evitano anni di processi e quindi impiego di ufficio e dall'altra parte c'è la riduzione della pena, quindi si rinuncia proprio al processo, alla costituzione delle prove e quindi non è vero che è una vittoria per tutti, anzi vorrei che si materializzassero in questo studio tutti quei commentatori con cui io mi sono confrontata nel periodo della custodia cautelare di Toti che scommettevano sulla sua assoluzione e sul fatto che le procure avessero preso un granchio, evidentemente non è così, però io non mi voglio concentrare sulla questione giudiziaria. Questo non lo sapremo mai, perché non c'è un processo. C'è un patteggiamento, evidentemente non è così, se io sono innocente non la patteggio la pena per corruzione impropria e per finanziamento illecito, se sono innocente perché ci tengo la mia fedina penale all'onore del mio mandato che ho portato avanti. Ora però mi voglio concentrare sulla questione morale perché, confesso governato, si chiama il libro di Toti, non facciamo passare il concetto che per ben governare bisogna salire sugli yacht e fare gli interessi di pochi comitati d'affare, perché c'è anche un'altra politica che governa bene anche senza salire sugli yacht e fare gli interessi di pochi comitati d'affare e qui tutto si lega. La questione Toti, la questione San Giuliano, io vorrei tornare e concludo ad una politica che tratti gli uffici della pubblica amministrazione come strumenti di una macchina per fare gli interessi del popolo e gli interessi generali, non che tratti la pubblica amministrazione, i ministeri, i palazzi delle regioni come terreni di poltronificio oppure terreni per proliferare conflitti di interessi privati o interessi di lobby, ma che si facciano attraverso quegli uffici gli interessi di tutti. E invece questo centrodestra nelle regioni e nei ministeri e a Palazzo Chigi sta facendo passare un concetto sbagliato che la cosa pubblica sia un affare quasi domestico da proteggere, blindarsi dentro gli uffici come ha fatto la Meloni cacciando addirittura la polizia davanti agli uffici di Palazzo Chigi, chiudersi con pochi intimi per fare i propri interessi privati e politici. Per me non è questa la politica con la P maiuscola.